E bello a tutti ragazzi siamo qui da PRDC Loire e oggi vi porterò ragazzi cosa sono i bit delle schede video 128 bit, 256 bit, ora ve lo spiego subito ragazzi Dato che stavi cercando sicuramente, stavo cercando anche io e non riuscivo a trovarlo L'ho voluto portarlo io ragazzi Dato che su youtube non c'è un cazzo, è l'unico video che c'è, cioè il mio Perché sennò c'è un altro coglione che ha caricato tipo 20 video con scritto 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 128 bit, 256 bit ecc Vabbè partiamo subito ragazzi Non lamentarti il no, non mi piaci il no, sembi mia nonna Allora, la velocità di una scheda ce la fa la GPU non tanto l'interfaccia con la memoria Per esempio la R9 285 rispetto alla R9 280 ha una GPU praticamente identica Se non per l'interfaccia con la memoria che ha 256 bit per la prima e 384 per la seconda Con differenze anche per la dimensione di essa che è di 2 GB Per la 285 è 3 GB per la 280 La GPU della 285 è per automizzata meglio Ha consumi inferiori Un algoritmo di compressione dei dati più efficace e risulta un po' più veloce nei giochi Quindi ragazzi, come stavamo dicendo ragazzi La 285 ragazzi è 2 GB Ok Cosa vuol dire Sì è 2 GB però va meglio ragazzi Insomma ma perché Allora Cristo signore santo Allora La prima è 2 GB Ok ragazzi Bene Però Ha un'interfaccia di 256 bit La seconda che è da 3 GB Per la 280 È 384 bit Però va meglio La Quella da 2 GB Cioè la 285 Quindi Dipende insomma Dipende Da scheda video a scheda video Poi ci sono Cioè devi guardare un po' tutto Non dipende solo dai bit Ma dipende anche dalla scheda video insomma Poi ci sono schede uguali Come le R7 250 Sia in versione GDDR5 Che in GDDR3 Ma la GDDR5 Ha una banda passante doppia rispetto alla GDDR3 Di pari frequenze Quindi le schede munite di questa memoria Sono più veloci Cioè Però le semplici La DDR5 È molto più veloce Della DDR3 Quindi io consiglio La DDR5 Rispetto alla DDR3 Consiglio anche Di non guardare solo Quindi Il DDR5 Ma guardare insomma Tutta la scheda video Come in bit E poi andiamo avanti ragazzi Tieni presente Che per aumentare La banda passante Tra la GPU E memoria e video Ci sono due modi Il primo è aumentare L'ampiezza del bus Di interfaccia Quindi 64 128 200 256 384 E 512 bit Per citare i più usati E il secondo È usare memoria A frequenze più alte GDDR5 Da 5HZ 07 Comunque in molti casi La scheda col boost Di memoria è maggiore Quella più performante E quindi Io consiglio Ragazzi Di prenderla Insomma Con il DDR più alto Insomma Tipo il DDR5 Con fronte al DDR3 E prendere magari Al posto di 64 bit Prenderla a 128 O insomma I bit più alti Se no Dovremmo provare A fare un overclock Però Non sempre ragazzi Va meglio Cioè Se poi non ha problemi Lasciatela così com'è Ragazzi Cioè Va meglio Questo lo dicono Comunque Gente che comunque Sa anche più di me Quindi Cioè Ecco E cosa volevo dire Le versioni di Pixel E Vertex Shader Stanno a indicare Che tipo di supporto Si ha Nelle librerie grafiche Per esempio Pixel Shader 3.0 Si riferiva Alle DirectX 9.0C Il 4.0 Alle DirectX 10 E il 5.0 Riferimento alle 11 Vertex Shader Di conseguenza Una volta Le schede Si differenziavano I pixel E i vertex Shader Nelle specifiche Poi con L'avvento Delle prime Schede DirectX 10 Gli shader Sono stati unificati Venivano indicati Come numero di stream Processore O CUDA Core Nel caso di Nvidia E ecco Quindi Su questo ambito Invece Sull'ambito Di pixel Dovete guardare I CUDA Core Che c'ha Cioè Nelle ultime Schede video Se adesso Ovviamente Cioè Penso che vi prendete Una scheda video Ragazzi Di ultima generazione Non vecchio Spero Comunque Se vi prendete Una scheda video Insomma Buona Ragazzi Dovete guardare Sì Il CUDA Core Per Comunque Il tutto Vabbè Ragazzi Guardate Le ultime Ragazzi Sono le migliori Quello è ovvio Però Se dovete guardare Dipende Cosa ci dovete fare Anche Però Vi consiglio Di guardare Con i bit alti Con il DDR Più alto Con i CUDA Core Più alti Di comunque Vedere Se devi giocare Confrontare Un attimo Magari Una scheda video Con l'altra E Tutte robe così Ragazzi Dovete confrontare Un bel po' Di robe Perché dipende Cosa dovete fare Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia stato utile E niente Ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video E Bella a tutti ragazzi Bella raga